Una persona misericordiosa, capace di rendersi prossima a tutti quelli che cercavano in lui una parola di bene e di speranza, è il profilo tracciato dal superiore provinciale degli scolopi d'Italia, padre Sergio Sereni, al funerale di padre Olivo Pallanc. Il religioso sottolinea nell'omelia la delicatezza di padre Olivo, la gentilezza, la capacità di mettersi in sintonia con gli altri. Non un pastore rigido, quindi, piuttosto un prete che sapeva accogliere. Ringraziamo Dio, ha proseguito padre Sereni, perché ci ha dato un testimone di fede impostato sulla mitezza e l'affabilità. Diceva padre Olivo, non ho nessun carisma particolare, forse uno, quello di saper ascoltare. Alla celebrazione nella chiesetta di via Rivarola a Chiavari, i padri scolopi hanno confermato quell'intuizione. Padre Pallanc era un sacerdote sempre al suo posto, ti accoglieva con il sorriso, ti ascoltava con pazienza, ti lasciava parlare, ti sapeva dare una parola esperta. Quando lo conosci ti senti meglio, è la frase di un parrucchiano citata questa mattina all'inizio della messa. Tutti quelli che hanno conosciuto padre Olivo ha concluso il superiore hanno un debito oggi verso di lui, a livello di comunione di fede, di conforto, di guida e come confessore. Lui ci metteva nella condizione di trovare il Signore, perché sapeva ascoltare, sapeva dire la sua parola, quella parola che puliva, guariva e ti dava la pace. Era un confessore eccezionale sicuramente, sapeva ascoltare tutti, aveva sempre una parola buona. Era veramente raro trovare delle persone così disponibili, al tempo stesso così acute proprio, con una fede così grande. Come è stato detto, non giudicavo le persone, ma intensamente le amava e le sapeva ascoltare. E direi che questo è rimasto nell'immagine di tutti quanti noi confratelli. Ringraziamo il Signore per averci dato questo confratelli.